All'Assemblea, però in teoria dovresti accreditarti oppure un comitato... L'interneggio delle aziende è perché nella sostanza ci saremmo aspettati un passaggio fondamentale, quello dell'approvazione e della variazione del PGTU e quindi la possibilità di affidare degli spazi di suolo pubblico alle attività commerciali. Non basta l'autocertificazione in questo momento? No, io ti parlo della possibilità. No, basta per chi ha già la possibilità di chiedere il suo pubblico nelle zone pedonalizzate. Dare la possibilità invece di pedonalizzare nuove strade, dare la possibilità dell'attività commerciale di adottare pezzi di strade, pezzi di vie, riempire via economia rispettando la massima sicurezza sarebbe stata una scelta molto più appropriata. Un minuto dopo puoi anche probabilmente ragionare di vieto di asporto ma prima devi dare la possibilità dell'attività commerciale di poter gestire uno spazio e poter lavorare. Se tu inserisci un blocco dell'asporto senza dare il suolo pubblico costringe le attività a non lavorare.